Grazie Presidente. Io vorrei rassicurare le opposizioni. Non è che non c'è stata programmazione, anzi appunto perché c'è stata programmazione e che noi abbiamo ritenuto di fare quest'ordine del giorno. L'azione di questa amministrazione nell'ambito sociale è stata molto forte in discontinuità con il passato. Siamo riusciti in molti municipi ad abbattere anche determinate liste di attesa, cosa che non si vedeva da molti anni. Siamo molto contenti di questo. Tuttavia, quasi alla fine del percorso che ci porterà al piano sociale cittadino, molti municipi hanno già approvato i loro piani sociali municipali e questi, sia quelli municipali che quello cittadino, sono stati proprio il frutto di un percorso. E allora, a ribadire che noi questo percorso lo vogliamo continuare, lo vogliamo continuare con la stessa energia, con lo stesso interesse, con la stessa passione, noi chiediamo che si continui a prestare la giusta attenzione al sociale, in modo che questi non restino dei libri di sogni, ma possano essere realizzati e dare una visione di città che è diversa, così come noi ce l'immaginavamo all'inizio della nostra consigliatura. Grazie.